Che cosa posso chiedere a Dugna, considerando che vince sempre? Posso dire che magari stai diventando un maratoneta e che magari queste distanze ti servono anche per fare una buona preparazione a livello di ritmi più veloci? Beh, veramente ora sto preparando il campionato italiano di Maratona a Verona. Ma ora stiamo preparando con il mio allenatore coach Andrea Giocondi, 800 metrista, ha vinto l'Europa e il campionato italiano. Quindi stiamo facendo un lavoro specifico con lui. Qui a Roseto sei partito subito deciso, hai preso il largo e hai ottenuto, se non vado errato, la tua miglior prestazione qui sul percorso della notturna. Ma ormai io per questo conosco qua a Roseto e quindi ho deciso i primi 5 km sotto 3 al km e ho deciso, ho fatto sotto 3 e poi dopo ho guardato indietro e quindi sono andato tranquillo. Ma ho fatto una bella gara. Quindi stai cambiando anche un po' il tipo di preparazione, di allenamento, no? Sì, 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 ci sono i tactici come devo fare e quindi è andata benissimo, va bene. Senti, sulla maratona invece che cosa vorresti fare? Perché nelle gare su strada, quelle brevi, almeno in Abruzzo, sei praticamente imbattibile. Ma in Abruzzo, diciamo, sì, anche in altre regioni delle Marche, l'Asio e Puglia, sto facendo le gare su strada, 10 km e mezzo al maratona. Adesso abbiamo obiettivo a vincere il campionato italiano, il maratona di Verona. Io e il mio allenatore abbiamo deciso a vincere il titolo campionato italiano. Crono, che vuoi fare? Obiettivo sotto 2 ore e 20, intorno a 18. Grazie. 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 Grazie.